Ecco, un titolo interessante, l'Italia da Tangentopoli al governo Meloni che porterà nuovamente in questa lezione ai nostri ragazzi. Sì, continua la terza puntata che tenta di raccontare agli studenti del liceo scientifico, in questo caso stamani mattina, quello che è accaduto in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale, appunto fino a oggi, fino al governo di Giorgia Meloni. E' cambiata un'epoca, probabilmente ci sono stati più cambiamenti dal 1991-92 a oggi di quelli che c'erano stati dalla seconda guerra mondiale a Tangentopoli. E' cambiato soprattutto l'atteggiamento degli italiani, a mio parere, l'atteggiamento degli italiani verso la cosa pubblica. Il disinteresse che c'è oggi, a memoria mia, ed è una memoria oramai lunga, non c'è mai stato. Ecco, c'è anche un cambiamento di chi si affaccia poi appunto alla politica. Lei sa, siamo in periodo elettorale, vediamo il nascere di tante liste civiche che prendono le distanze in maniera anche netta dai partiti. E' un bene o è un male? Questo esula un po' dalla giornata di oggi. Sì, allora diciamo che quello che cercherò di fare, sperando di riuscirci, è non dare assolutamente un'impronta di parte alle cose che racconto. Ovviamente io ho la mia opinione, come spero l'abbiano tutti o quasi tutti, ma non deve assolutamente trasparire, perché lo sforzo è quello di raccontare ai ragazzi quello che accade nella politica, perché influenza la loro vita, e sperare che almeno alcuni di loro si appassionino alla politica. E' un bene o un male che le liste civiche si allontanino dai partiti? E' un male? E' un male. E' una necessità, a mio parere, oggi assolutamente non eludibile, ma è un male, perché il partito dovrebbe essere almeno niente altro che l'organizzazione di persone che di fronte ai problemi della società la pensano più o meno nella stessa maniera. e non seguire la Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Eli Schlein o chi sia. Loro dovrebbero essere al servizio degli italiani, non i loro elettori al loro servizio.